Lo stimolo dall'esterno ci sarebbe comunque, sia quando noi siamo nella condizione, sia quando non siamo nella condizione. Ma se non siamo nella condizione, lo stimolo, da interessante e specifico, perde quella proprietà e diventa uno stimolo sostanzialmente neutro. Un saluto a tutti. Oggi abbiamo un argomento, penso di una certa importanza, è l'argomento delle ondulazioni e del calo, diciamo, una ondulazione verso la discesa, così, del desiderio sessuale, del desiderio proprio di avvicinamento fisico, diciamo, all'altro. Cala il desiderio sessuale in senso stretto, ma adesso che cos'è il desiderio sessuale, va detto? È questa spinta naturale, bella, molto positiva, ad avvicinarsi alla persona che amiamo. Che cosa comporta? Quali sono le cause delle ondulazioni? Quindi l'ondulazione è, appunto, è una irregolarità, una diminuzione, possiamo dire, quindi una riduzione di frequenza, di circostanze in cui lei o lui desidera sono disponibili in un modo autentico verso lui o lei. Una prima cosa che viene in mente da precisare è quali sono le cause. Ci sono cause, potremmo dire, un po' indirette, possiamo dire, quindi non sono direttamente legate alla relazione tra lui e lei, ma sono legate e sono un effetto indiretto, un effetto di altro. Che cos'è quest'altro? è la condizione, possiamo dire, organismica. Che vuol dire? È la condizione in cui il proprio corpo, il proprio sistema psicofisico si trova. perché la sessualità e il desiderio di avvicinamento, di congiunzione tra le due persone, sia in senso mentale e spirituale, sia in senso fisico, esista rigogliosa, senza decrementi, senza danneggiamenti, questo corpo di lui, di lei, deve essere un corpo che ha una condizione integra. Che vuol dire avere una condizione integra? Vuol dire che il corpo è riposato e pieno, pieno, pieno di risorse neurochimiche, cioè di neurotrasmettitori, tutti i neurotrasmettitori più importanti, la serotonina, la dopamina, non so che posso dire, l'acetilcolina, l'adrenalina, la noradrenalina, diciamo i 5-6 più noti, ma ce ne sono molti altri che sono meno noti. Una volta uno studioso, un neuroscienziato, mi disse che ci sono 200 almeno tipi di neurotrasmettitori. Allora, quando l'organismo è in condizione di pienezza, è in condizione di apprezzare, valorizzare, quindi ricevere realmente lo stimolo interessante o meglio, lo stimolo dall'esterno ci sarebbe comunque sia quando noi siamo nella condizione, sia quando non siamo nella condizione. Ma se non siamo nella condizione, lo stimolo da interessante e specifico perde quella proprietà e diventa uno stimolo sostanzialmente neutro. Questo va saputo. Quindi bisogna fare attenzione perché a sapere questo significa anche non fare errori che gravano e che confondono e che comportano altri danneggiamenti successivi. Se io non so che la mia condizione è alterata, io rilevo soltanto la conseguenza, una delle conseguenze, perché la perdita del desiderio è soltanto una delle conseguenze. Come potrei io rispondere? Che cosa può succedere dopo che ho fatto questo rilievo? Mi sono accorto del caro del desiderio. Eh, potrebbe succedere di peggio. Qual è? Cos'è peggio? Peggio è darsi una risposta, darsi una spiegazione del caro del desiderio che si è errata. Mi spiego. La spiegazione più sbagliata quando la causa è altruve è quella di attribuirla all'amore nostro che è sparito oppure attribuirla all'altro che è cambiato, non so che è successo, è diverso, non sento più. Ecco, questa è una complicanza, possiamo dire, della condizione precedente. Oppure, per qualche persona, un'altra conseguenza potrebbe essere di attribuirsi, diciamo, o come posso dire, una responsabilità nel caro del desiderio. Cioè una responsabilità, c'è qualcosa in me che non va, c'è una patologia che mi sta succedendo. Ecco, ho portato due tipiche conseguenze. Allora, una causa quindi è quella che abbiamo indicato. La seconda è più specifica, è legata proprio a questo rapporto. La seconda è legata a quello che è accaduto. Quando una sola volta, beh, se è molto grave, una sola volta può truncare il desiderio. Molto grave, molto grave. Truncare il desiderio temporaneamente non chiudendo la possibilità futura, diciamo, di recupero, anche rigoglioso, anche completo, anche addirittura in crescita e in superamento di quello che era l'equilibrio sessuale e potenza sessuale del desiderio precedente. Ecco. Quindi, un solo evento traumatico è raro che sia, un solo evento che taglia, cioè così, però, nel caso di comportamenti gravi, beh, uno tipico che viene considerato terribilmente grave, non voglio adesso sottovalutare niente, diciamo che in una coppia buona, in una coppia, che qual è una coppia buona, in una coppia che, dove lui ama autenticamente, lei ama autenticamente, diciamo, lasciare spazio a quello che adesso dirò è fortemente sbagliato. Sto alludendo all'infedeltà. ecco, l'infedeltà. Qual è sarebbe il motivo dell'infedeltà valido per due che si amano? Non esiste. Per due che si amano, sono autentici, sono generosi, danno molto di sé, o tutto di sé, perché poi, diciamo la verità, quando vedi che il cuore è puro, il cuore è gentile, il cuore è generoso, e noi stiamo bene insieme. Non c'è ragione di infedeltà valida. Quindi questa potrebbe diventare una causa, così, quando scoperta all'improvviso, quando affiora, una causa del, così, o dell'innalzamento, a questo punto direi disordinato, non voglio usare la parola patologico, ma insomma, più o meno, possiamo dire, un innalzamento, cioè mi cresce il desiderio quando l'altro perde il requisito, quando l'altro si comporta compiendo azioni, autorizzando azioni che danneggiano, che infrangono, io direi anche, possiamo usare in questo caso, il termine offendono la nostra storia, offendono la nostra relazione, quindi non sto dicendo offendono me soltanto, il danno è su di me, su di me, a un certo punto anche è relativo, io direi che il danno è proprio sulla relazione, perché ho detto che il danno su di me è relativo? L'ho detto perché se io mi proteggo, so proteggermi, mi sono protetto fino adesso, ho protetto la mia condizione ordinata, la mia condizione fisiologica, anche da un punto di vista psichico e spirituale, che può farmi l'altro. Se io invece non ho protetto bene me stesso, ho alimentato fragilità, vulnerabilità, l'altro può destabilizzarmi fortemente. Quando il danneggiamento avviene progressivo, con il suo come? Ma arrivando a violare, arrivando a rompere l'armonia, avviando così ripetute azioni che offendono, che feriscono, che non trascurano, che sono sottrazioni di quello che prima veniva dato, che per carità veniva dato. Era un dono già, quindi non può essere preteso, nessuno può allungare artigli per pretendere l'amore. Questo lo stiamo spiegando in tutti i modi. Esistono tanti modi di violare. Comunque in comune che cos'hanno? Che l'altro un po' si è un pochino, non è entrato, è stato avvolto dalla nebbia, è stato un po' ombreggiato, messo in ombra. Questo si comincia ad avvenire con qualunque essa sia la giustificazione, perché secondo me una piena giustificazione non c'è. Perché anche se un uomo è carico di impegni, di stress, di responsabilità, basta nulla per far sentire all'altro che ci sei, pochissimo, ma quel nulla arriverà e sarà credibile se ci sarai veramente e non sarà un trucchetto, possiamo dire, per scavarsela in qualche modo e per così tenere l'altro lì. Potrei dire a disposizione, lo sappiamo, che una delle condotte più gravi è la condotta dell'ipocrita, dell'ipocrisia, dell'ambiguità, della falsità, coperta bene, anche da smart, da svelto, da svelto, un tipo svelto smart. No, no, questo non diventate smart, non fidatevi, non provateci quando avete avuto la chance perché innamorarsi ed essere ricambiato è una chance epocale, potrebbe essere la chance decisiva, la grande opportunità. allora nell'accingermi a salutarvi al termine di questo video io vorrei dare un consiglio così su che si fa quando noi abbiamo visto il calo del desiderio. evitiamo di così di drammatizzare ma evitiamo anche di far finta di non quindi di non vedere. Allora quindi rispondete, rispondete con con prontezza di attenzione per capire da dove viene il calo. Questo lo dovete fare per proteggere voi singolarmente il vostro rapporto e anche la vita nella persona che amate. Mi raccomando aggiungete esempi, commenti diciamo e se qualcuno ha da segnalarci delle storie particolari e vuole condividerle e vuole venire ospite al podcast noi saremo felici di ospitarlo e di poter anche aiutare attraverso la sua storia sia lui così perché Antonino sarà pronto lì sarà pronto e avrà voglia di sto qui apposta possiamo dire e di aiutare e di aiutare tantissimi altri che assisteranno a questo colloquio a questa testimonianza però illustrata bene e spiegata bene le storie sono tutte importanti vi aspettiamo